E' successo che non è scattato niente. Con chi adesso? Con Pinuccia. Ecco. Non è scattato niente. Non è che era Pinuccia che poteva scattare. Sono due sere che ci vediamo lì. Ieri eri pronto al trasferimento, eh? E' vero. Non è scattato niente, Maria. Non ho sentito proprio niente. Ho sentito come fosse mia sorella. Hai capito? Hai capito. E che faccio? Quando è così, senza che allungo la faccente, non è che l'allungo. Poi non mi scatta niente. Perlomeno con Vincenza qualcosa mi era scattato nelle prime sedute. Era diverso. Eh, ma le prime sedute? Poi chiese anche scusa. Le prime sedute. Chiese anche scusa per quello che era successo. Dunque, di fronte agli italiani si è comportata bene. Diciamo, quella l'ha stata perdonata. Perché magari prova Vincenza più sexy di Pinuccia, vedete? Sì, però era scattato da parte di Bruno. Non ha scattato niente, che gli posso fare? Io non posso fare niente. Io ci ho provato, ci ho riprovato assieme a lei. Però se le cose non vanno, non vanno. Non è utile che ti assorgera il gioco. Se non ti piace, non ti piace. Non è che te la puoi fare. Allora, adesso sei aperta la strada per Vincenza. Allora, adesso sei aperta la strada per Vincenza. Allora, adesso sei. Grazie a tutti